Una mappa di Minecraft composta esclusivamente da una prigione e noi dobbiamo scappare, in tutti i modi possibili e immaginabili, evitando i troll. Moriremo oppure impazziremo sclerando? Non lo so. Bene ragazzi, quest'app mi è bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft minigames, minimappe, si chiama Unfail Prison, il che promette poco 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 bene. Il creatore è Nico DePro, mi sembra di averlo già sentito, il che è preoccupante. C'è un cancelle... Veramente. Va bene, va bene, allora dobbiamo trovare un altro modo, ci sarà un libro delle regole o qualcosa di sì... Oh! No, 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 no. Tua madre! Io vi odio. No ragazzi, no, no, no. Sei serio? Tu dimmi veramente che questo è il gioco che sto affrontando oggi, perché non ci sto. Io non ci sto, c'è un blocco? Forse da questo blocco devo saltare di là, molto probabile. Dai, appari su che devo andarmene di là, ci metterò una vita a registrare questo video. Fai il bravo e mettimi il blocco. Come si esce da qua? Come? Come si esce? Cosa vuol dire? Forse devo saltarci da lontano. L'unica cosa che mi viene in mente è questa e non funziona. No, di nuovo no, eh, ci stavo per cadere. Come caspita supero il primo livello per piacere. Io mi sto arrabbiando pesantemente. Che palle. O mi chicca di qua a lui? Dai, spin. Sì, sì, incredibile. Care, invisible blocks ahead. Va bene, metto il true vision glasses. Qual è il problema? Però non funziona. E invece mi ammazzo. Da capo? Tutte le volte no, non esiste. Madre di Dio, aiutaci. Dai, puttami di qua. Pucciami di là, bravissimo. Cosa devo fare quindi? Non devo mettere gli occhiali? Non devo mettere gli occhiali? Ma è impossibile! Ho indossato gli occhiali di nuovo. Quindi ora cosa devo fare? Devo andare nella zona rossa? No, non devo andare nella zona rossa! Sto per incavolarmi di brutto, ragazzi, eh. Sto per cancellare la mappa, giuro. No, no, no. Vai, buttami di là. Buttami di là! Veloce! Picchiami! Forse devo evitare i blocchi rossi. Il che potrebbe avere senso da una parte, visto che il rosso di solito rappresenta il male. Non a caso io sono il mates rosso, il male in persona. Tutto ok? Drop the glasses. Perfetto. Rilascia gli occhiali che non servono più. E ce l'ha detto lui. Put the glasses in the chest! Riprendi gli occhiali. Rimettiti gli occhiali. Cerca di sopravvivere a sta mappa del cavolo. Prima non ho preso i blocchi rossi. Mi stavi mentendo spudoratamente. Dice di rilasciare gli occhiali. Drop the glasses. Put the glasses in the chest. Quindi li devo prendere io. Li ho presi. Tutto dritto. No! No, no! Sarà un trauma superare questa mappa. Non so neanche perché l'ho scelta. In realtà perché sono un pirla e se le cerca. Mi devi picchiare. Non mi va più di là, ragazzi. Non ci va più. Non vorrei mica dirmi che fino ad ora sono stato fortunato. Ora non ce la faccio più. Secondo me dobbiamo correre. Io corro. Corro e basta. No, altri blocchi. Altri blocchi del male. Lascia gli occhiali. Lascia gli occhiali. In giro. Non c'è un punto in cui saltare. Cioè, come faccio ad arrivare là sopra? O è un salto infattibile. Oppure non so che caspita fare. Sparo qualco... Ma davvero? Questo gioco è completamente malato. Nico, sei un pazzo maniaco. Vai così step che ce la... Facciamo. No! Tutto da capo di nuovo. È l'inferno. Io vi sfido a fare questa mappa senza sclerare. E spingimi di là. Anziolite o non sei altro. Meno male. Tutto da capo, eh. Ogni volta dobbiamo rifare la stessa cosa. L'ho mancato. Facciamo con calma. Altrimenti va a finire che tanto faccio peggio che meglio. Abbiamo capito che a questo punto si supera così. Ti levi gli occhiali. A questo punto stai tranquillo. E li lasci dentro la cesta. No! 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 Ho fatto quello che mi hai chiesto. Lo capisci? No, dai. Non esiste però, eh. Non mi basterà tutta la pazienza di questo mondo. Piano, piano. Buono, buono. Io non li levo. Non li levo gli occhiali. Te lo scordi? Tu pensavi di fregarmi. E invece sono io che frego te. Guarda lì. Bellino ciavolini. E prima li ho saltati involontariamente questi blocchi. Ma come è possibile? Ora voglio proprio vedere come caspita facciamo. Dai. Devo saltare qua e poi far esplodere quello di nuovo. Va bene. E me? E mo? Non devo andare avanti lì. Devo sparargli forse. No. Non funziona così. Non ci sono altre soluzioni. Devo andarci più. Forza! Mi prendi per il culo? Mi sto pentendo amaramente di averla iniziata. E non so perché. Tutte le cose belle che potevo fare. Potevo giocare a Fortnite. No dai facciamo Unfair Prison. Sarà divertente. Pucciami di là. Che pizza! È morto. No ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta lo stesso. Andrà tutto bene caro step. Il percorso è creato. Ma come cavolo faccio? Questo non è semplice parkour. Non so se avete capito. Ma mi ammazza. Il blocco mi ammazza completamente. E poi ti prende il panico. E a quel punto inizia a impazzire. Ed è normale che calpesti le righe rosse. Anche se non lo vorresti fare. Ma lo fa involontariamente. No di nuovo. Di nuovo no. Di nuovo no. Di nuovo no. Di nuovo no. C'è anche questa qua. A sinistra. Bene. Addio occhiali. Forse devo raggiungere quella geggio lì. Che fa il fumo. Ma da dove passo? Da qua dietro. No non ci arrivo. Non credo arriveremo mai alla fine della mappa. Ma per il semplice motivo è che sembrerebbe davvero impossibile. Dove devo andare? Oh mio dio. Credo di aver capito. Devo ammazzarmi e rifare tutto da capo. Devi picchiare me. Non stare laggiù a farti gli affaracci tuoi. Voglio credere in questo sogno. In tutti i modi. Dobbiamo crederci per forza. Forse devo far cadere solamente il primo. Sì. E poi dal primo dobbiamo salire sul secondo. Questo salto è praticamente impossibile. Però dobbiamo riuscirci. E vi garantisco che ci riuscirò. Piano piano con tanta pazienza. Devi fare un salto dritto e fatto bene. E dai steppe dai. Fallo tutto in un colpo solo. Ed è in questo momento che ripensi a tutte le volte che hai detto. Tanto non farò mai il parkour sul canale. Mai più. Invece ce l'ho fatta. E adesso dove vado però? Salire qua sopra. Qua in cima. Un bel saltone lungo. Presa! Una bomba! Usare con attenzione. Come si usa? Non devo lanciarla. Devo cliccare col destro probabilmente. Ok! Ho cliccato col destro. Non ce la posso fare. Questo gioco mi odia. Tutto da capo di nuovo. Io non ci voglio credere. Dai! Voglio finire sto livello. Per piacere. Adesso secondo voi riescono gli omini di nuovo? E che palle però. No. No, 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 no. Ok! No, 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 no. Qua giù c'è una bomba e se ti butti non muori. Quindi probabilmente dobbiamo scendere qua con la bomba. Veloci! Uccidetemi! Le persone che hanno commentato questa mappa scrivono. È molto difficile. Alla faccia del molto difficile. Non è per niente intuitiva. Devi impegnarti fin troppo. Quando poi arriva il momento sclero, lì sì che non vai veramente più avanti. Capite? Dai! Questo salto è abbastanza semplice. L'abbiamo già fatto due volte. È la volta buona. Ci sono. Ricordiamoci di evitare quegli schifosi dei pigmen. La strada giusta era qua a dritto, vero? No, no, no. Ti prego. Ti supplico. Ti supp... Aaaaaah! La mia tecnica è quella di stare lungo il bordo. Lungo il bordo e basta. Vai, 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 vai. Vai, vai. Funziona. Funziona. Ha funzionato. Adesso si può andare? Sì. Sì che si può andare. Dai, dai, c'ho la bomba. Ho la bomba. Aprivi. Si è aperto davvero. Sì, cavolo. C'è una porta. La porta si apre. Abbiamo vinto. Quindi immagino che adesso la mappa sia finita. Questo è il command block che genera tutto quello che abbiamo visto e abbiamo vinto. No, col cavolo me lo scordo. Non voglio morire. Che vuol dire? Devo rifare tutto di nuovo. Vai, apri la chest. Buttati di sotto. Apri la porta. Andiamo via di qua. Siamo sicuri che io debba entrare là dentro? Credo di impazzire, ragazzi. Non so cosa diavolo devo fare. Ma? È un ascensore sta roba. Ci sta portando fuori da qua. Che soddisfazione. Forse no. No, di nuovo no. No, di nuovo no. Fatemi uscire da qua una volta per tutte. Maledizione. Tra pochissimo la swing cima inizierà a cadere un anvil. E allora muoviti. Veloce, 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 veloce. Dove diavolo siamo finiti? Posso uscire da qua? Incredibile. Siamo fuori nel cortile. Devo premere tutte le pressure plate? Si può fare. Ok. Che sono ancora? Porca miseria. Quante sono? Sono decisamente interdetto e confuso e non so che diavolo fa. Oh! Fermi, fermi, fermi. C'è un pulsante. Vai, vai, vai. Oh no, no, non mi ammazzare, ti prego. Come cavolo devo fare, eh? Porca di quella miseria. No, si è chiusa. Oh, c'è scritto freedom, libertà. C'è un'altra pressure plate, un'altra bomba. Dove caspita la pressa? Forse devo salire? Dobbiamo salire qua sopra. Fermi, fermi, fermi. Buono, è la strada giusta, infatti lo sapevo. C'è una porta chiusa. Non ci si può andare. È chiuso. Sopra ci sono però dei pulsanti. Vediamo, 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 vediamo. Riclicco. Non succede niente. Bene, divertente questa cara mappa, vero? Questo che cos'è adesso? Perché ho paura che succederà qualcosa di brutto? Eccolo lì. No, no, non mi piace. Non ci piace neanche lei. No, non vogliamo nessuno di tutto questo. Per quale motivo? Continuiamo a fare il giro del perimetro. Sapete vero che se mi ammazza devo ricominciare tutto da capo? Sarà divertente. Un'altra torre come quella di prima e non ci si può entrare. C'è una chest. Però aspettate, forse posso recuperare quello che c'è dentro in qualche modo. E dai. Non me lo fa prendere. Invece eccolo qua. Può essere piazzata su un blocco di iron. È fatta. Mission complete ragazzi. Però c'è un'altra chest qui. Ho paura di aprirla, esplode di sicuro. C'è un'accetta. I wonder what this could ever break. Non ne ho idea. Qua c'è l'uscita. Si può mettere sul blocco di iron. Vai. Sei sicuro di volerlo piazzare qui? I mean, seriously. Why do you not play in the next iron door? Perché lo voglio mettere qui. You really willing to do this? Really? Sì. Non ho capito. Lo voglio mettere qua. You know what? Fine. But I warned you. Voglio piazzarlo qua e basta. Oh. Oh. Funziona. Funziona. No. Mi ha fatto cadere. Dai. Dai. Ero salito in cima. Io odio questo gioco, questa mappa. Odio tutti. Come faccio ad ammazzarmi adesso, eh? Spiegamelo. Come si fa a suicidarsi? Cavolo. Eccolo lì. Devo fare tutto velocemente e in fretta per evitare di morire male. Vai, 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 vai. Stavolta col cavolo che passo da lì. Dammi la pressure plate, ho detto. Pressure plate recuperata. A questo punto vi direi prendiamo anche l'accetta. Concentrazione a mille. Vai, 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 vai. È finita. È finita. Come esco? Non è vero. Non devo farlo. Non devo fare il parkour. Oh mio Dio, ti prego. Ti prego, non farmi questo. Oh! Cosa significa? Ma dai! Basta, ti prego. Fammi arrivare alla fine. Non ce la faccio più. Sono stanco e stufo. Forse devo andare da quest'altro lato e non di là. Questa è la strada giusta. Fidatevi di me che devo salire là sopra. Dobbiamo assolutamente andare qua dentro ed è fatta. Clicco il pulsante e no. Scendo qua sotto. Did you manage to get stuck down here? Please save me. Posso sparare qua? No! Dai! Devo sparare con l'arco, forse. Sì. Sì, c'è una chest. Veloce. Un enderpearl. Warp to the other tower. Magari da qua adesso, saltando là sopra. Siamo liberi! Questo gioco ci odia. Non ci faranno mai scappare. Lo sapete, vero? Non ci voglio credere, ragazzi. Siamo fuori! You will not escape. You will not escape. Ma ancora? Che sta succedendo qua? Aiuto! No, non voglio di nuovo gli zombie. No, no, no. No, gli zombie no. No, no, no. Gli zombie no. Gli zombie no. Quindi questo può rompere quella roba lì. Non ci credo. Vai, vai. Vai che ce l'andiamo via. Non mi sembra vero, ragazzi. Siamo giunti alla fine della mappa. Sì, così. No, di nuovo l'anvil. No, di nuovo l'anvil. No, esci di qui. Libertà. 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 No, rompiti. Ti prego. Ti prego. Sì. Ho finito. Abbiamo vinto. Congratulazioni. Sei libero? Sì. Voglio 30.000 mi piace, altrimenti... No, 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 no. Cari amici, è stata una pessima idea, ma l'abbiamo portata a termine. Quindi voglio 30.000 mi piace, commentate, condividete. Se ancora non avete fatto iscrivervi al canale, un'ora e mezzo di registrazione. Qua da sempre tutto. Buoni! Questo Nico è un pazzo malato e non è la prima volta che facciamo le sue mappe. Basta, non dobbiamo fare più.